LUCACINI Vi racconterò di un senese venuto per caso a fare la vacanza nella mia isola. Il suo nome è Luca Cini. Ma dietro Luca c'è sempre un senese, che è il suo papà, che si chiama Antonio Cini. Il suo Antonello è un appassionato della storia. E quindi diciamo che è un senese che è riuscito a chiedermi di ricamare lo stemma dell'Università di Siena. Quindi adesso, e da adesso, l'unica università che ha lo stemma in visso è l'Università di Siena. Intanto, adesso devo fare una cosa ufficiale, che è quella di donare all'Università il pezzo, e quindi andrà dalle mie mani, alle mani dell'Università, attraverso il prolettore. Grazie. 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 l'anima per cui l'acqua per me è sacra e di conseguenza il filo dell'acqua non è altro che tutto quanto congiunge l'uomo all'acqua e l'acqua all'uomo questa cosa è importantissima io sono l'ultimo maestro del mediterraneo a costruire il filo dell'acqua naturalmente ho difficoltà a spiegare bene che non sono un artigiano e non sono un artista non sono un artigiano perché non devo vendere niente di quello che costruisco per cui quando costruisco un pezzo quando è finito è pronto i pezzi che costruisco sono di ispirazione immediata e questa storia questa comincia quando un ragazzo luca di siena viene in vacanza nella mia terra e quindi entra per caso nel mio museo che è considerato da tutti molto strano perché non è altro che un altro un po particolare io mi alzo la mattina alle tre prego per la pace del mondo a modo mio naturalmente e i miei canti di preghiera si svolgono e si snodano durante tutta la giornata come mi è stato insegnato i gesti sono quelli millenari ma cosa faccio in pratica scendo sott'acqua taglio la seta dalla pinna nobile setacea e la porto in superficie mentre i tempi di mia nonna si avevano bioccoli interi molto lunghi oggi abbiamo bioccoli così piccoli perché vedete questo è un bioccolo di mia nonna ma l'animale è morto questo è un bioccolo mio l'animale vivo questo vuol dire che nel 1980 prima di accettare il giuramento dell'acqua da mia nonna quindi legare tutta la mia vita all'acqua e al mondo ho preferito studiare l'animale e vedere se era possibile che mi regalasse la seta senza ucciderlo ci riesco nel 1981 non pubblico gli studi perché molto pericoloso infatti immediatamente dopo quando hanno saputo che io era arrivata al taglio ho ricevuto molte offerte di denari da più parti del mondo per cedere il brevetto di taglio non lo faccio non l'ho pubblicato non lo pubblicherò mai ritengo che l'italia debba conservare le sue cose al limite se abbiamo qualcuno che viaggia e visita i nostri posti possono avere il piacere di viverle assieme a noi ma portarle via in altri luoghi non è sano non è buono devono restare dove sono io vivo nell'isola di sant'antioco che si trova a sud ovest di sardegna ha una storia millenaria a 86 nuraghi è circondata totalmente dal mare escluso il ponte e l'istimo che la legano la terraferma ricca di tradizioni di modi e fra queste tradizioni diciamo attraverso me ha potuto conservare questa cosa che muore come lavorazione nel 1938 solo la mia nonna la conserva io me ne innamoro all'età di 6 7 anni e quindi siccome avevo comunque già imparato a nuotare da mia nonna continuo la strada con lei rinuncio diciamo a una vita chiaramente molto diversa o molto moderna per abbracciare una vita che di moderno non ha niente però è più consono alla mia anima la mia vita è molto semplice io mi alzo alle tre del mattino prego per la pace del mondo poi sto nella mia stanza ricevo il mondo e naturalmente faccio il filo dell'acqua filo dell'acqua non ha bisogno di parole ha bisogno di gesti che sono quelli da millenni patro 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 a kim be kim be a patro 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 e kim be kim be kim patro 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 e patro 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 pat Io ho imparato a filare a quattro anni, a tessere a dodici, ho fatto il giramento a 27, mi sono presa un po' di tempo. Adesso vediamo come si fa un filo. Come avremo a filare con questo vento circa un milligrammo di fibra e vediamo quanto filo ci regala. Ecco. 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 Grazie. 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 E così ho cominciato la mia vita. Il bisso non si compra e non si vende. Ha nessuna cifra. Quindi i maestri che lo ereditano lo lavorano tutta la vita ma sanno che non gli appartiene che è di tutti. Per cui quando fanno le opere le donano al mondo per tutti. Il bisso non si vende. E non portavano te. Non portavano te. Né manco il goritto. E in avritto. Donna Ratittia. Anche lo scantate ha su vizio e Maria. Una nottimanna. Terra devondale. Nascere una bemmena. De uno grande amore. Che su vio d'acqua. Farà comandare. Venti d'estate. Venti d'estate. Venti d'estate. Venti d'estate. Allora io scendo nella prima luna di maggio fino all'ultima luna di giugno. Mi è consentito scendere sott'acqua in apnea delfino. Come mi ha insegnato mia nonna. Tagliare la seta. Portarla in superficie. Cardarla. Filarla. Tesserla. Pregare. Essere. Tutto qua. Il filo è fatto. Aviamo. Sì. Lui-l'è più dcale. Allora luna.